Noi non vi vediamo, ne abbiamo tante luce, allora mi presento un attimo, veloce 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 veloce, vai Marco, che fa vai Marco? Costruisce Fisermoniche, però da 12 anni a questa parte portiamo in giro nelle piazze italiane un format televisivo che si chiama Fisermonicando, finalmente siamo giunti anche qui a Santo Stefano d'Avato, quindi vi chiedo un applauso per tutta l'organizzazione, non è stato facile, non è stato facile, però serata è riuscitissima, allora Suona la Fisermonica tutti quanti giù in pista a ballare, tante note e tanta magia per la gente che sta in compagnia, suona la Fisermonica se la senti sognare e ti fa, gira gira e domani chissà, la Fisermonica gioia sarà Fai Santo Stefano d'Avato, poi tantissimi Fisermonicisti E chiamiamo qui sul palco Thomas Garbarino, spero di averlo L'applauso di Santo Stefano, ciao Thomas, ciao Thomas, mamma mia 12 anni Sei emozionato Thomas? No, è normale per loro stare sopra Scusa, non arrabbiarti, non pensavo, sei un veterano? No, è normale per loro, sei un veterano? No, è normale per loro, sei un veterano, sei un veterano? E lui ha sette anni e da due impara la fisarmonica sempre dal maestro Enrico Roseto Chiamiamo qui con noi Mattia Mancini Piccolo lui, ciao Mattia Bello Ciao Mattia Vuoi salutare tutta la mamma? Ciao, sei emozionato? Va bene Vai tranquillo, c'è lo zio Marco Cosa ci fai ascoltare? Ok, graziosa Vai, vai amore, vai Grazie a tutti Ha partecipato come musicista e direttore al FIMU, festival internazionale di musica universitario a Belfort in Francia nel 2007 come unico gruppo italiano. Davide Cordano Però che currino, lo sapevo Davide Aveva tanti anni e lo sta a fai mare Grazie a tutti 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 Ciao Ciao Ciao